Apre la piazza dell'associazione Schierarsi a Termoli, l'associazione fondata da Alessandro Di Battista e come coordinatrice c'è Mariella De Filippis. Come ci sei riuscita? Ho semplicemente fatto richiesta sul sito, ho mandato appunto la mia richiesta di costituzione della piazza ed è stata accettata. La piazza non è altro che un gruppo di persone che si impegnano a portare appunto in piazza delle tematiche di interesse collettivo, cercando di coinvolgere i cittadini con gazebo, raccolte firme ed eventi di vario genere per discutere delle varie problematiche territoriali, nazionali e quant'altro. Si torna un po' all'origine, come era l'origine dei meet-up, la provenienza di Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle. Ci sono anche adesioni eccellenti, diciamo così? Si, si torna alle origini perché i valori e le linee guida che l'associazione di Alessandro Di Battista porta avanti sono proprio quelle di quello che era il Movimento 5 Stelle delle origini e quindi si torna alle origini. Ci sono i consiglieri Daniela De Caro e Antonio Bovio che mi stanno supportando e mi stanno dando una mano nell'organizzazione di queste prime fasi, ma resteranno sempre al mio fianco e lavoreremo insieme a questo nuovo progetto. Chi è Mariella De Filippis? Mariella De Filippis è una semplice cittadina, un'ex attivista del Movimento 5 Stelle che nell'associazione di Alessandro ha trovato i valori e i principi in cui ha sempre creduto e vuole continuare a portarli avanti. La premessa d'obbligo era quella che si tratta di un'associazione, quindi non un soggetto politico, ma è altrettanto in dubbio sapere dove vi collocate. Allora appunto, essendo un movimento culturale, non un partito politico, l'associazione Schierarsi si colloca semplicemente dalla parte di chi in questo periodo storico in cui ci troviamo sta vivendo in difficoltà o comunque vive in una situazione di svantaggio. L'unico obiettivo che ha al momento è quello di stare vicino, di dare forza affinché tutti i diritti di queste categorie di cittadini non vengano calpestati. Non è il momento quindi per stabilire se sarà sempre un percorso di reale autonomia o ci saranno contatti con altre forze politiche? Allora al momento, ribadisco, essendo un'associazione culturale non si sa neanche se ci sarà un percorso politico in futuro. È probabile ma si vedrà andando avanti e quindi lo stesso vale anche per i contatti con alcune delle forze politiche o perlomeno un dialogo. Al momento no, andiamo da soli, siamo soli. L'importante è schierarsi. L'importante è schierarsi. Sì, è in effetti un movimento culturale quindi ci collocheremo semplicemente dalla parte dei deboli, dalla parte di chi sta vivendo situazioni di svantaggio, comunque si trova in difficoltà e l'obiettivo è soltanto quello di stare vicino a queste fasce di cittadini, a queste categorie per far sì che i loro diritti non vengano calpestati. Sì, siamo stati noi primi a costituire la piazza ma appunto nelle ultime ore sono nate anche quelle di Campobasso e quelle di Sernia. Quindi invito chiunque volesse entrare a far parte di questa associazione di andarsi a iscrivere sul sito www.associazioneschierarsi.it e poi contattare la piazza più vicina, Termoli, Sernia o Campobasso. Nel nostro caso è sufficiente seguire la nostra pagina Facebook, schierarsi trattino basso Termoli e mandare un messaggio con i propri dati e con la richiesta di essere ammesso al gruppo.